Sicuramente è uno dei dossier che più ci ha tenuto impegnati in questo ultimo periodo. Oggi non solo è stato votato questo dossier, ma anche un dossier molto più impattante che è la proposta sull'uso sostenibile dei pesticidi. Per quanto riguarda questa proposta del packaging, per noi aveva parecchi aspetti di rimenti. Prima di tutto la Commissione aveva introdotto l'obbligo di utilizzare dei sacchetti monouso superiori all'1,5 kg per gli imballaggi dell'ortofrutta. Quindi per noi voleva dire perdere tutto il settore della quarta gamma. Ora la proposta passa da 1,5 kg a 1 kg, quindi la Commissione Ambiente oggi ha approvato a 1 kg, però sappiamo bene che 1 kg è sicuramente un risultato che non ci soddisfa per niente, neanche a pieno, soprattutto perché veniamo da altre due commissioni parlamentari, la Commissione ITRE e la Commissione Agri, che avevano completamente tolto questo vincolo. Perché se da una parte noi abbiamo delle indicazioni dalla FAM2FOR, che ci dicono di spingere verso l'utilizzo e di spingere verso la diminuzione del food waste, in questo modo noi andiamo ad incentivare il food waste, perché se io devo comprare una confezione di insalata da 1,5 kg, l'insalata ha un ciclo di vita molto breve, per cui ovviamente abbiamo, sicuramente creiamo del food waste. Poi in ogni caso non spingono verso il consumo di frutta e verdura, quindi stessa cosa poi succede anche nel voto che abbiamo visto sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Da questo punto di vista per noi è un grosso problema, è passato anche l'emendamento che riguarda le etichette compostabili, sempre sulla frutta e verdura, quindi il nostro settore dell'ortofrutta è sicuramente preoccupato dal voto di oggi, che speriamo riuscire a modificare nella plenaria. Come diceva lei, il voto è stato risicato, però di fatto ad ora questo c'è sul tavolo, quindi abbiamo avuto sicuramente un aiuto dai nostri parlamentari italiani, che relatori ombra sia di questa commissione, sia invece anche delle commissioni ITRE e COMAGRI, però è necessario sicuramente abbassare questo limite o addirittura toglierlo.